Per un paio d'anni aveva svolto un doppio lavoro docente di una scuola superiore pubblica e venditrice online di integratori alimentari per conto di una società del nord Italia senza aver richiesto preventivamente l'autorizzazione alla competente struttura del ministero dell'istruzione. Per questo una professoressa della provincia di Pistoia scoperta dalla guardia di finanza è stata sanzionata con una multa di 10.000 euro, l'equivalente di quanto indebitamente percepito con la sua seconda attività. Il doppio lavoro non autorizzato svolto via internet aveva infatti consentito alla docente di percepire indebitamente 10.000 euro di provvigioni che per legge dovrà ora versare all'amministrazione di appartenenza e saranno destinati ad incrementare il relativo fondo di produttività. All'azienda che le aveva conferito l'incarico non autorizzato sono state combinate sanzioni amministrative già dalla stessa pagate per circa 2.500 euro. Secondo la vigente normativa infatti i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o autorizzati dall'amministrazione di appartenenza in quanto l'esercizio a scopo di lucro di attività estranei ai doveri d'ufficio deve essere oggetto di un'apposita valutazione da parte del datore di lavoro pubblico che tenga conto sia della specifica professionalità che dei possibili profili di incompatibilità.